La campagna vaccinale marcia in Veneto a pieno regime e la sanità veneta ha ora nel mirino due settori molto importanti per la stagione estiva ormai imminente. Da una parte c'è il turismo, fondamentale per l'economia dell'altopiano dei sette comuni e di molte altre zone a vocazione turistica. Dall'altra i centri estivi. Lo annuncia l'assessore regionale alla sanità, Manuela Lanzarin. Due categorie che secondo noi sono molto importanti. Il mondo del turismo, quindi mettere in protezione tutti gli operatori del mondo del turismo. Abbiamo fatto degli incontri con le associazioni del settore. Noi sappiamo che per mettere in protezione tutte queste persone abbiamo circa 60.000-65.000 persone per le strutture ricettive, alberghiere, per tutto il turismo all'aria aperta, il camp e quant'altro. E poi l'altro settore che vogliamo mettere in protezione subito, insomma, è quello dei centri estivi, ricreativi, dei campi scuola per i ragazzi e gli adolescenti che si apriranno qui a breve. Nelle scorse ore l'assessorato Veneto alla sanità ha diffuso le linee di indirizzo per le attività educative e creative per minori, che interessano appunto i centri estivi e i campi estivi. Le linee guida si basano su una stretta alleanza fra genitori, insegnanti, operatori e organizzazione sanitaria, grazie a un patto di responsabilità e alla presenza di referenti Covid nei centri. Grazie a tutti.